E questo è un messaggio che si inoltre all'interno di oggi pomeriggio, soprattutto ai giovani. Il mare è anche come fonte di occupazione, insomma una risorsa per cui ci vuole la massima sinergia tra tutte le parti interessanti, in questo caso anche la capenina di Polto di Benzi. Sì, infatti ha perfettamente ragione. Il mare innanzitutto deve essere rispettato, ma non temuto. È un'occasione di sviluppo per creare le figure professionali, sia a bordo che a terra. Quindi ci vuole la massima sinergia, la massima competenza e la massima preparazione per affrontare questi temi. Ed è quello che si sta facendo a Brindisi, dove il nostro porto va utilizzato appunto al mare. Sì, il porto di Brindisi è un porto dove ci sono molte tipologie di traffico, molti settori merceologici, che si svolgono per le sue attività e ci sono molte imprese che danno lavoro a molte famiglie e quindi il tutto deve essere assicurato con la massima trasparenza, celerità e competenza.